Buonasera a tutti, sono Luigi Naracusa e preferite con il video bonus di oggi riguardante LLR Select Ragazzi non è bisogno aspettare domani per far valutazioni, sono usciti dei nomi abbastanza del cavolo Si fa abbastanza scurando le dita a capire qual è il PG migliore Comunque per chi ancora non sa cosa sia potrete tramite un link che cercherò di mettere in descrizione Ma a prescindere trovato e votare chi sarà il prossimo LR Non partite con l'idea che sarà una delle vostre carte che va LR Perché al 99.9% dei casi non sarà altro che un LR Sarà un LR pullabile Calcolando i nomi sarà un LR pullabile Andiamo a vedere i nomi dal più scarso in poi Abbiamo il Grande Mago Piccolo Non linka con nulla e alquanto inutile non ha senso pullarlo Selesel Junior Anche lui totalmente inutile Grazzagna meno 1 e 2 Continuiamo la fila dell'utilità Master Roshi Goku e Krilin Carina? Sì Decente? No Non la vedo assolutamente minimamente decente Ultimate Gohan Potrebbe essere carino Potrebbe essere buono Potrebbe essere una ciofeca È molto punto interrogativo Ultimate Gohan ragazzi Shocking Speed, Power Best Away by God Sono link interessanti ma non utilissimi Ora come ora uno è link in e uno è link in pochi PG Dipende dal colore Il colore è la grande incognita ragazzi Il colore è la grande incognita di questa cosa Gohan Ultimate può essere carina Può essere carina ma non per forza una cosa positiva Team Bardock ragazzi Salvo che non siano grandi scimmie Non pare siano grandi scimmie Non vedo utilità nel Team Bardock Ma potrebbero rivelarci sorprese quei link Saiyan Pride è una possibilità Team Bardock ha GL Potrebbe essere abbastanza interessante Quindi punto interrogativo Beerus Beerus Carino ma anche qua link pressa poco Nulli Sta di fatto che un Beerus LR non ha bisogno di più tanti link Potrebbe essere un PG che si autosostenta Quindi anche questo nel force Golden Freezer Golden Freezer dipende molto dal colore anche qua Sono colori che a un Golden Freezer non si fanno nulla Forse STR sarebbe una manna dal cielo per il Team Extreme STR Quindi mettetelo molto nel force anche lui Armata di Metal Cooler Armata di Metal Cooler Lasciatela perdere ragazzi Nessun modo di farmarla né altro Ah si naturalmente Valutate anche altre cose Mi ero dimenticato un passaggio forse fondamentale Golden Freezer Beerus Hanno e sia farmabile Beerus tramite Beerus Tech Golden Freezer tramite il farming Buona come cosa Molto buona Quindi Hanno un valore in più Kid Buu Non mi piace come Kid Buu è stato trattato a sto gioco Manca un DPS serio Che non sia quella ciofeca dell'int Che deve ancora uscire nel global Potrebbe essere la volta buona Avrà in futuro e sia farmabile Può essere interessante Merge Zamasu È sia farmabilissima con una facilità da far paura PG forte Questo è uno dei top PG che secondo me volete votare Se volete votare un Extreme Merge Zamasu è il PG che fa per voi BBB Berserker Nightmare Fear and Fate Link LR Sia farmabile Ha tutto quello che serve Questo è il vostro PG Questo è l'Extreme Che deve vincere Siamo Sin Ceri Questo è il PG che deve vincere Se volete far vincere un Extreme È un PG Fantastico La versione Tour purtroppo pecca parecchio Perché è un puro DPS Senza nulla di speciale Questo potrebbe essere molto di più Molto 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 di più Future Trunks Future Trunks Molti lo vorrebbero però Siamo sinceri È un Super Saiyan qualsiasi Rischia di diventare un Goku LR Con qualche link migliore È un punto interrogativo Non è il migliore dei Super Gotenks Super Saiyan 3 I team che hanno bisogno di Super Saiyan 3 Hanno già un Gotenks Rischiate di buttare Pesantemente Per pesantemente Intendo davvero pesantemente Nel cesso PG e Stone Votatelo a vostro rischio È pericolo E ci sono due Gotenks Sono i due team in cui si giocano In Super Saiyan 3 Farlo uscire Farebbe un rischio Assurdo D'altro canto Sarebbe un PG forte Passiamo ora al PG Che secondo me Deve votare Deve vincere Quest'Election Ovvero Super Saiyan God Anzi che Secondo me vincerà A prescindere Quest'Election Ovvero Veget Super Saiyan Blue Perché la vince? Perché la gente E' nabba Siamo sinceri La vince perché la gente E' nabba E vota il PG più figo Il PG che gli fa bagnare Di più ragazzi È successo nel Jump Col Select Succederà qua Nel Select Ci scommetto Una palla di Priscilla Che al 99% dei casi Vincerà Veget Blue 99% Perché c'è un 1% C'è un 1% Che potrebbe non vincere lui E vincere Trunks O un altro PG Veget Blue PG della Madonna In ogni team Escluso il fisico Andrebbe Da Dio Non è sia farmabile Ma fregatevene Se esce fisico Vuol dire aver buttato Centinale e centinaia di stone Per un PG Quindi Anche questo A vostro rischio Difficile esca fisico Io non mi aspetto A questa LR LLR fisica Ma mi aspetto Un LR Magari Global Exclusive Un PG Per facilitare ulteriormente Il gioco O roba simile Me l'aspetto così Vincerà molto probabilmente E ha senso che vinca Il PG Al secondo posto A quelli che secondo me Vinceranno Zamasu lo metto al terzo Volendo essere gentili E Goku Super Saiyan 4 Ora Goku Super Saiyan 4 Meriterebbe di vincere Perché? Perché la sua versione LR Darebbe un boost assurdo A molti team Goku Super Saiyan 4 Da tutti i rumor Sarà tech Questo vuol dire Che non essendo STR Avete il 50% Che questa LR Disintegri totalmente Il meta Perché lo dico? Lo fanno AGL Team AGL torna il più forte Vegeta più Goku Super Saiyan 4 In un team con 120% Di boost E' troppo grosso Per essere paragonato A qualsiasi altra cosa Anche Gogeta Dovrebbe lasciare il passo Avremo il DPS Che manca Al team AGL Per avere tutto Avremo le tournazioni Avremo i partner Avremo tutto Team perfetto Raggiungeremo la perfezione In culo a tutti quelli Che l'hanno sempre detta Sul team AGL In America In culo pesantemente Se succede D'altro canto Anche un tech Con il possibile Gogeta Super Saiyan 4 Tech Renderebbe il team tech Finalmente un team Giocabile Se non addirittura Come esattamente Per il AGL il più forte Del gioco Seppur lo rivoluzionerebbe Totalmente Butterebbe fuori Gotenks Nel 90% Dei casi Causerebbe un po' Di problemi Ma comunque Sarebbe un PG Davvero buono Nel caso di fisico O nel caso di int Semplicemente Renderebbe il team int Ancora più sbagliato E potente Nel caso di fisico Renderebbe il team fisico Un po' più forte Ma non sbagliato A livelli indicibili E' comunque un PG Che dovrebbe trovare Il suo spazio Darebbe troppi ki Radiator War E' altro Potrebbe dare troppi ki Ma d'altro canto Potrebbe aiutare La turnazione Perché darebbe meno ki Di un Veget Blu A Gotenks Super Saiyan 3 Quindi in soldoni Il Mio Consiglio Principale Qual è? Votate Veget Goku Super Saiyan 4 O Zamasu Il resto ragazzi Purtroppo E' fuffa Il resto è fuffa Io ho votato Piccolo Che è fuffa Della fuffa Perché? Perché Tecnicamente Tanto la vittoria Di Veget Blu E' talmente sicura Che il mio voto Non serve a nulla Cioè Basta pensare A tutti i bimbi Di 10 12 anni Che giocano Che non seguono Gente che gli struisce Che giocano Alla cavolo di cane Che seguono solo Nabi Voteranno il pg più figo E più figo qua dentro È Veget O forse Goku Quindi alla fine Il mio voto Non mi interessa Nulla Ho votato il pg Che penso Forse più inutile Di tutti Apposta Come Come sfogo Per il select jump Prendiamolo così Come sfogo Per il select jump Perché tanto La vittoria in questo caso È abbastanza scontata Se dovessi scegliere Io personalmente Chi fare Sinceramente Farei con molta probabilità Virus Virus In quanto Meriti un LR LLR probabilmente Avrà la scena Della caia E tutto quanto E sia farmabile Ma non troppo facilmente Qualsiasi colore Lo mettano Sarebbe giocabile Nel team super In un modo o nell'altro I virus precedenti Sono troppo vecchi E troppo inutili Mi sarebbe Quel pg A cui potrei dare Speranza Tessa cosa potrei dire Di ultimate gone Ma ultimate gone Ne uscirà un altro Ragazzi Per il torneo del potere Sarà un 50 stamina O 60 di sicuro Quindi Non c'è bisogno Di cattivi Merge Zamasu Tutta la vita Il più facile A portare S a 10 Quello che mi dà Più aspettative Di potenza E calcolando Che non sarebbe Tech Molto probabilmente Sarebbe Int Riuscirebbe a portare Su quel povero Team extreme Int In una maniera Indecente Questi comunque Erano i miei pensieri Ditemi voi Chi avete votato Come mai Perché Vi ho dato una panoramica Meta Tra virgolette Perché in realtà Non avendo dati E meta Fino a un certo punto E vi auguro Un buon proseguimento Di serata Alla prossima